Ben arrivato a Parma, l'hai definita un grande salto per la tua carriera? Sì, è sicuramente un grande salto per la mia carriera. Il Parma è una squadra grande, io vengo da Siena che comunque ho molto rispetto e stima per Siena, ma sicuramente venire al Parma è una cosa, è un salto in più nella mia carriera. Il direttore ti ha apprezzato anche per la tua duttilità, difensore centrale, terzino, l'occorrenza? Sì, ho già avuto allenatori che giocano a 4 dietro, a 3 dietro, io mi sono sempre trovato bene, anche perché sono mancino e mi posso adattare a difese a 3, a 4, anche da sterno che in nazionale ho fatto tante volte, perciò non è un problema il mio ruolo in difesa. Io voglio giocare dopo, dove, non importa. Qua ritrovi Galloppa? Sì, qua ritrovo Daniele. Con Daniele ho vissuto dei belli momenti a Siena, abbiamo fatto una salvezza e un campionato molto buono, anche lui è stato importante per me.